E what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno finalmente ragazzi anche su Resident Evil 4 L'ultima volta appunto è toccato ad Ashley Una lunga meravigliosa sessione con la povera in difesa Ashley alla merced di mostruose armature Veramente è stato terrificante oserei dire ragazzi E nonostante gli sforzi della povera piccola Ashley alla fine dopo essere riuscita a liberare Leon E' stata catturata di nuovo come una scema Leon è finito in trappola e stavolta è toccato ad Ashley correre in suo aiuto Ma i due sono ritrovati solo per un attimo La ragazza è stata di nuovo catturata dal nemico Leon si addentra nei meandri del castello per salvarla Quindi questa volta toccherà Ammassa che primo piano sulle chiappozze di Ada Allora che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace ancora nulla Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambosto Andrà tutto alla perfezione Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo E' un bravo cane Prevedibile Bene E dai a chiamarlo cane Chi sarebbe il cane il cagnaccio? Il povero stupido Leon Che poi no stupido no dai c'è poverino ecco Eccoci qua Ciao Bella Sentiamo Qualcosa di grosso accadrà nella sala del trono Dura a fare la balia Ehi Ada Ada Ok Deve aver capito che la stanno portando nella sala del trono E qui così inizia ragazzi il capitolo 10 Non è cambiata No che non è cambiata Come potrebbe essere cambiata? Allora rimettendo un attimino tutto a posto Dirigiti verso la sala del trono Esattamente Questo è il nostro obiettivo attuale Le nostre scorte ragazzi Diciamocela tutta all'angono un po' eh Però 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 nel frattempo Io non ho avuto come al solito tempo ragazzi Per andarmi ad esercitare al poligono di tiro Vi prometto che prima o poi lo farò Allora qua all'armeria c'è sta un po' di robetta Però dovete se posso tornare E tra l'altro c'è stanno tesori sparsi Un pochettino dappertutto Se la dobbiamo dire tutta Allora tra l'altro ragazzi Qui in sala da pranzo Avevo appunto dimenticato sto benedetto medaglione Infatti sta che qualcuno di voi mi ha pure scritto dove Ah eccolo Ma guarda un po' Ma guarda un po' che bastardi Come cavolo l'hanno raccolto E niente ragazzi Quindi completata almeno Questa sfida dei sei medaglioni blu Perfetto Quindi non ci resta che Tornare Verso l'armeria Quasi quasi Tra l'altro il nostro obiettivo È tipo a Monculo Beach Quindi dovrei procedere Tipo da questo lato Però ovviamente Prima di andare ragazzi Verso la sala del trono Mi sa proprio che è il caso Di tornare un attimino all'armeria Raccogliere tutto quello che si può raccogliere E vedere un attimino come organizzare le scorte Sempre se la porta adesso si apre Certo che si apre Quindi non perdendo tempo Direi di recuperare Tutto quello che ci serve Ho lasciato così tanta roba in giro qui Eh sì Ma sa proprio di sì Perché Non l'avevo mica notata sta roba Regà Dobbiamo Fare razziere tutto quello che Che si trova Perché La valigetta Langue Porca miseria Ok Esatto Caro Esatto Ottimo lavoro 5 spinelli Fantastico Allora qualcuno di voi Mi ha consigliato di comprare La valigetta Rossa Perché aumenta la probabilità Di ottenere piante rosse Allora io Per adesso Ragazzi direi che Comunque le spinelli Un attimino me li tengo Vedo se riesco a completare Qualche altra sfida E accumularne ancora un po' Perché la valigetta rossa Regà costa 12 spinelli Quindi Allora Direi di rimettere Un attimo a posto Il giubbetto Ragazzi E rimettere a posto Anzi ho potenziato Direttamente Perfetto Il coltello Da combattimento Ne ho aumentato la potenza Comunque è una cosa Che ci fa piacere E per ora Direi di fermarci Così Ma io non c'avevo un cubo Questa roba Ah Dispositivo cubico Eeeh Cioè posso sta tre anni Ok allora Ci serve Forse così ci va Siii E vai Top Ma il cubo L'abbiamo pure ripreso Tra l'altro Lampada con farfalle Immagino che questo Sarà Combinabile Con qualche altra Robetta Esattamente Ragazzi Esattamente Posso incastonare Ammazza Ma già ne ho sei Ma subito Le incastono E me le avendo Subito Già c'era Ok Fantastico ragazzi Questa è una bella notizia Te lo vendo subito 21.000 Tieni Bell Tieni Le vipere ovviamente Sempre ragazzi Mi ricordate di Tenerle Perché ho ancora In sospeso La famosa Sfida con le vipere Allora Tutta questa parte Della biblioteca Se non sbaglio È quella che ho fatto Con Ashley E mi avete scritto Nei commenti Che ho tipo Dimenticato Qualsiasi cosa Di qua Quindi mi sa proprio Che mi conviene Venirci a dare Un'occhiatina Ragazzi Ho bisogno di qualcuno Abbastanza coraggioso Da eliminare Con un mostruoso Cavaliere Vi avverto Molto più forte Degli altri Gli è bastato Un singolo colpo Per far fuori Il migliore Tra noi Quindi Aria Mausoleo Sconfiggi Il nemico speciale 8 spinelli Quindi sono tanti Ma molto probabilmente Perché Ragazzi Sarà una cosa Abbastanza complicata Quindi io non so Se me la sento Sinceramente Tra l'altro Dove Ah è questo Cavaliere spietato È proprio qua Giusto stavo Per chiedermi Dove fosse Il mausoleo Quindi allora Adesso Rifarmi tutta Questa bella zona Al buio Sinceramente Non è che Mi entusiasmi Poi tanto Se la devo dire Tutta Però comunque I trofei Ragazzi Possono essere utili Ma io ho paura Assolutamente Delle armature Mostruose Se sono qua in giro Dio santo Allora questo Lo posso spaccare Ovviamente sì Allora Uno dei tesori Dovrebbe essere Di qua Cos'è? Cos'è questo rumore? Oh cazzo Sono le armature Non mi di Sono veramente le armature? No non ce la posso fare No Eh no Eh no Eh no Eh no Ma è un incubo Cristo E se io dovessi Bellamente decidere Di farmi tipo I fatti miei E non vedere assolutamente Un cazzo Di questi tesori Anche perché Il tesoro che mi interessa È dietro questa parete Quindi mi devo mettere qua Ecco fatto Allora Ovviamente Piccola chiave Dovrebbe andar bene? Ovviamente no Ci vuole la chiave specifica Che forse Era fra le chiavi Che aveva Ashley Quindi Adesso Guarda Proprio Sicuramente Faccio una cosa Bellissima Me ne vado Me ne vado per sempre Me ne vado per sempre Non torno mai più Non torno mai più ragazzi State calmi State buoni Sto andando via Che incubo Vabbè St'altra zona Non sarà Da meno Insomma Dove ci stanno Questi altri tesori Anche perché Principalmente ragazzi Per alcuni di essi Mi sa che appunto Servivano le Le chiavi Di Ashley Quindi mi sa che Non posso fare Proprio un bel niente So che qualcuno Molto probabilmente Ragazzi Sarà tipo Smadonnando Per il fatto che io Non Non completi Quest'area Non prenda tutta la roba Che c'è da prendere Ma Abbiate pazienza Ragazzi Lo sapete Che io non sono mai Stata una completista Non inizierò Ad esserlo adesso La porta che ci interessa E' proprio questa Mi sa Quindi dobbiamo Procedere Da qui Entriamo in una nuova Area Interesante Davvero Molto Interesante Ma state scherzando State scherzando No 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 Mostri di merda Ok Che cosa fantastica Ci mancavano anche questi Tensettoni Schifosi Dove vado? Vado di qua allora Salta Aaaaa Aaaaaaah So peggio delle cimici So peggio delle cimici Quando iniziano a volare Te vengono gli incubi Lio santo Aaaaaaah Va giù Va giù Va giù Nel culo Che schifo Sta giù pure te No regà Oddio 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 Come faccio? Allora Io avendo la fobia degli insetti Ed è risaputo Come faccio Ad affrontare anche questi? Da me potete chiedere tanto Adesso il terror Di entrare in qualsiasi posto In qualsiasi dannatissima area Cazzo è sto rumore Smettete di terrorizzarmi Io santissimo Già sono terrorizzata Mi stanno dando fin troppe granate a fragmentazione ragazzi Non so quanto sia una buona notizia questa Ok uno spray medico Miracolo Allora tra un po' non avrò più un cazzo di spazio Direi che tra l'altro avevo pure ingrandita la valigetta l'ultima volta Allora munizioni fucile me possono essere utili Munizioni carabine non me posso fare più un cazzo ovviamente Niente Niente non posso fare altro D'accordo Tra l'altro c'ho per esempio Ste munizioni magnum E io la magnum non ce l'ho Ad esempio c'ho ste munizioni mitragliatrice E io per ora la mitragliatrice non ce l'ho Quindi non so ragazzi Se voi avete da consigliarmi di comprare qualche altro tipo di arma Ovviamente sarete voi A dirmelo Oddio che incubo terribile Luglio Due anni dalla mia illuminazione Il padrone Ramon mi ha affidato un incarico realmente importante Quello di migliorare i difetti della nostra forma umana Alla ricerca della perfezione così come vista nei nostri fratelli artropodi A questa causa voglio dedicare la mia intera vita Gennaio Quattro anni dalla mia illuminazione I tentativi di effettuare una trasfusione di liquido nero nel corpo sono prossimi al successo La chiave è l'utero Un'anime innocente altamente malleabile Il soggetto più adatto Ma perché ci stanno di mezzo sempre le anime innocenti? Non lo so Gennaio Sei anni dalla mia illuminazione Ho chiamato queste sacre larve portate in grembo dalle prescelte U2 Ispirandomi al mio nome Spero che possano tramandare il prestigio del mio cognome Come se fossero sangue del mio sangue Mazza che aspirazione che c'ha io La stazia degli U2 è ora quasi pari a quella di una persona adulta Continuano a nutrirsi e moltiplicarsi Ho creato una nuova specie Il padrone Ramon ha riconosciuto i miei sforzi e mi ha consacrato con la sua benedizione Ha preso consigli U2 dandomi il nome Novistador Che significa l'invisibile Mi è stato detto che sua santità Lord Sadler ha espresso approvazione per il mio lavoro È un onore davvero incredibile Lacrime di gioia mi oppuscano la vista Riesco ostante a vedere la punta della mia penna Il suo umile servitore Isidro Uriarte Talavera Caro Isidro della... della minchiera Te potevi fare un po' dei cazzi tua No, ti sei messo a creare questi mostri orrendi Oddio Dove siamo? Ah, finalmente! Ci siamo arrivati nella famosa sala da ballo ragazzi Che la stavamo cercando a... Chissà da... da... da quando eh Per incontrarci con Luis Il problema è che adesso abbiamo perso di vista pure Luis Ok, qua ci stanno le scale Allora, sto posto... Non me la conta giusta Per niente, munizio di carabina Dammene Ok, meglio ragazzi Prepararsi perché c'è un brutto presentimento Veramente un brutto presentimento Quindi... Ecco qua E te pareva E te pareva E te pare... Quanti Cristo sono! Ci vorrebbe una bella disinfestazione No, 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 no Altro che disinfestazione Qua i migliori disinfestatori Preveriscono ammazzarsi Piuttosto che arrivare qua Dio santissimo Scendi! Schifo che non sei altro Ma non voglio... Eccoli tutto Oddio, non mi do avvicinare Oddio Oddio, che incubo Che incubo terribile Ricarica Oddio, sta arrivà Oddio, sta arrivà Oddio, sta arrivà Oddio, sta arrivà Non posso affrontare tutto sto schifo Non ce la può Non ce la può Sono troppi Sono troppi Mi è esplodato addosso Che schifo Mi sento zappettare dovunque Quanti colpi mi avete fatto usare Pezzi di merda Che non siete altro Oddio, io sento ancora rumori bruttissimi Rumori ma... Eccolo Ebollatemi un po' Schiaccialo Schiac... Fagli quello che te pare Basta che lo uccidi Cristo, che schifo E che cazzo Quanti ce ne devono stare ancora Vi prego Mamma mia Mamma mia, signori Oddio, eccolo qua Arriva cattivissimo Arriva cattivissimo Ok Ok Come ogni insetto che si rispetti Fa troppo schifo Quando si cattorce Ok 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 Continua a darmi polvere da sparo No regà Ma è la storia infinita Non mi dite È il prossimo Eccolo lì Lo volevi Il prossimo Li mortacci tua Allora Allora regà No state qua Allora O ce ne dobbiamo andare seriamente Perché È scarabbeo Non ho abbastanza Di insetti Cristo No Non è normale Tutto ciò Che ce ne siano ancora Così tanti Non è possibile Continuo a sentire Brutta musica Niente Se mi servirebbero Munizioni fucile Ragazzi Ma Non c'ho risorse Facciamoci ancora Munizioni carabina Nel dubbio Che non si sa mai E Vediamo un attimo Allora Da ste parti Ci dovrebbe sta pure un tesoro Ma mi sa che comunque Non possiamo uscire Tra l'altro Da qui La porta è chiusa Ah ok Se l'apriamo Non c'ho alcun tipo Di problema Ovviamente Io Aspetta Da qua Da dove sono arrivata Non me di Non me di Da dove sono arrivata Questa prima era chiusa Infatti Stincubo deve finire Perché io Non ho intenzione Di restare qui Ancora tanto a lungo Eh Anzi Stavo pensando proprio Di togliere immediatamente Le tende Se permettete Però vabbè Allora Apriamo Ste scatole E E Pariva E Te pareva Sta fermo Lì Ok 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 Pure un colpo di questa Può essere utile Sempre se Se non si muovono troppo Sti schifi Mori Cioè Mannaggia Santa Quanto me devono Fa pena Ste porcheri Eccolo là Eccolo là Eccolo là Eccolo là No raga Per me È È Indicibile Tutto ciò Ve lo dico È indicibile È indicibile Oddio Non so come ce la posso fare Non lo so È un incubo È un incubo È un incubo È un incubo Ammazza come Come precipitato Vabbè A parte tutto Continuo a fare il giro Vediamo se troviamo qualche altra cosa Oddio Questa che serve Non lo so La abbasso comunque Ok Serviva In ogni caso Lasciatemi vivere In Santa P Per favore Dio santo Schifo 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 Muori Schifo E non ti contacchere Che fai ancora più schifo Allora Quindi mi serve Comunque mi sa Un'altra leva A prescindere da tutto E a prescindere da tutto Entriamo un attimo qua Ecco qua Non volevo Trovarmi nei altri Che palle Colpisci Leon Colpisci Allo sterno Ok 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 Finquanto è stordito Leon muoviti però Che schifo di rumore Che ha fatto Ok Mi è andato uno zappiro Mi è piaciuta sta cosa Ma qua dietro Non c'era altro Solo questi schifi Mi sa che dovrò provare Ad andare dall'altra parte Mi dice l'intuito Sempre se posso salire Dall'altra parte Ma penso di si Ci dovrebbero essere altre scale Ah Quindi non indugiamo troppo Io spero di averne ammazzati Abbastanza Per ora Ma Suppongo che mi ritroverò Qualc'altra cosa Ovviamente dall'altro lato Intanto Rompo questo Risorse Presetas Che ci piacciono Sempre tanto Anche se ci piacciono Di più le munizioni Sempre qua Dobbiamo di tutta Proviamo Allora aspetta Ricarica prima Ok siamo pronti Perché scommetto Ci scommetto i coglioni Che qua ce ne sono altri Ci scommetto i coglioni Aspetta Guarda dove sono arrivata Mi sa Non vorrei dire Non mi sa proprio di sì Eh sì Eh sì Eh sì Allora forse devo salire Da queste altre scale Ragazzi Le altre scale Che ho visto più avanti Di qua Vediamo se ci ho visto Giusto per una volta Eccolo là E che cazzo Di incubo Mori c'è Cristo Santo Dio Oddio No Mi si è rotto pure No Mi si è rotto Il coltello Regà Ciao Vai 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 Io Madonna regà Lì ho una corsa Che Fa Beh fa abbastanza Rite Quanti pezzi sono Ok via via Non ci arriverò mai Ok Madonna Quanto l'hanno fatto Schifoso Dov'è l'altro Che non ho visto Un altro strisciare Quanto sta che Come cazzo Ci arrivo A quella scala Che prima Ce l'ho arrivata L'ho aperto quel forziere Ma Ok Ne avevo un altro Di coltello Buono a sapersi Mori Ok sto per morire Io tra l'altro Quindi mi sa proprio Che mi conviene curarmi Ragazzi Quindi usiamo sta miscela Ricordiamo Minchia sta valigetta Sta esplodendo Ok Deve essere Per forza Da qua dietro Ragazzi Saliamo Questa scala Vediamo Dove ci porta Il destino Contro quest'altro Schifo Ovviamente Quest'altro Schifo Tra l'altro Ok 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 L'altro è precipitato Ne sotto Però qua c'è L'altra levetta Che ci serve Ok Ci siamo aperti La strada Dai A me piace A me piace Fatto Però Questo Questo regà Ok L'incubo A cielo aperto Che è una continuazione Diosantissimo Quindi rifacciamo il giro Da qua E vediamo di squagliarci Perché ho usato più proiettili qui Che in tutto il resto del gioco Fra un po' Eccolo la Eccolo la Non tappicinare Merdaccia Ok Vediamo che mi ridai Non mi hai rilasciato Un cazzo Ok Poi fare la spara Poi fare Va bene Va bene Me ne vado Me ne vado Fate come se non ci fossi Perché me ne sto andando D'accordo? Ok Io ho un ottimo cavaliere Non ho mai detto di esserlo Se proprio la devo dire tutta Comunque d'accordo Giù il ponte Attento lì Non posso accettare in testa Ecco Che cazzo è successo adesso? Si è bloccato Mannaggia tutto Che dettaglio Non sta a perdere Che si è bloccato Il bastardo Eccolo là sotto ragazzi Vedete? Perché ci hanno spruzzato La vernice gialla Lì sul muro Ovviamente per Darte un piccolo indizio E dire guarda Imbecili Senti Prima ne perde tre ore A non sapere che minchiare Devi fare Guarda qua sotto E infatti È stato molto utile Quindi andiamo Andiamo Prode Cavaliere Leon Che poi non sei prode State scherzando Mi auguro State scherzando Mi auguro È un cazzo di scherzo Quelli in due State scherzando Eh? Io Io Una sfida del genere Non Non l'accetto Se vedevo Dicono Sinceramente Non Non sono d'accordo No Ah la puta madre Che te pario Come mi hai sentito No 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 Allora Gli ammazzi Però Passore Tai a mamme Tà Ok Se li ammazzate Voi per me Mi fate un grosso favore Però La puta Che te pario Ok 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 Questo può essere Molto utile Ma Io Ho tanta paura Io Io La puta madre Pure che te pario Dico Demi il puta Allora ragazzi Questa è Una Infamata Bella e buona Perché allora Ok Me volete mettere Due di quei pezzi Di merda D'accordo Ma non mi mettete Questi altri figli Di puttana Ma che infamata È Che infamata È Anche perché poi Sti merdoni Sono resistenti Quindi Preso Ne approfittiamo Un attimo Alla puta Che tesore Da Oddio Regà Oddio Regà Vedo la situazione Estremamente critica Estremamente critica Ecco qua Perfetto 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 Fantastico Li ho attirati di nuovo A me Veramente meraviglioso E Ecco Il problema è Che questi qua Poi Vedete Come rompono Il cazzo Si A E E Voi E Regà Questo È Un grosso 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 Guaio Poi ci stanno le campane però Vai bello de mamma vai Questi sono resistenti ragazzi Io non so se Cioè non so Quanto ce la posso fare La vedo male La vedo poco poco male raga Ma poco male eh Ma queste sono accecanti Allora rifacciamo un attimo il giro Spero di non ritrovarmi nessuno da questa parte E' un guaio Andate un po' Andate un po' Andate un po' Andate un po' E che cazzo Vedete qual è la rottura di coglioni E' quella principalmente E' vaffanculo Raga io non ho parole Posso dire di non avere parole Certo Raga bisogna avere un sangue prendo Per far sta roba Che E penso sia incommentabile Oh porco due Cioè raga ma Allora Ma serio Cioè quanto l'hanno voluto fare Rotti in culo Sto Sto momento Cioè Già questi sono un dito al culo Ci mettono pure gli altri Diti in culo E dai Le altre dita in culo Semmai Cioè raga non si affronta Oddio ecco Ok Mo me tocca di nuovo rifare il giro Sangue freddo Sangue freddo Sangue freddo Sangue freddo Sangue freddo Sangue freddo Raga ho colpito il nulla E' un guaio E' un guaio Cioè non se ne esce vivi Non se ne esce vivi Da sta storia Perché almeno con la campana Uno poteva un attimo No Poteva un attimo Temporeggiare Mo Eh eh Ci attacchiamo a sta ceffa Ok proviamo adesso Diamoci la gambe Allora Mi sembra di capire Che per fortuna Degli altri rotti in culo Non ci sia più traccia Regà Non so cosa pensare Davvero Se non che sono nella merda Tipo nella merda 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 Oh là sotto c'è una campana Fermi Eh mo Ok facciamo attenzione Io non ho idea Di quanto ancora durerà Questa cosa Fatto sta Ah ma questo è morto Oh Dai Corno dell'unicorno Non so cosa minchia mai serve Ma almeno uno dei due ragazzi E' morto Questa è una grandissima notizia Cioè regà Allora Questo c'ha pure l'armatura Non so se rendo l'idea Cioè che se non colpisci Proprio il punto Preciso 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 Te puoi attaccare Sta minchia Allora di campane Ehm Non ne vedo più Ehm Sinceramente Quindi non so se Conviene davvero Utilizzare ancora La precisione Perché bisogna essere Estremamente Preciso Ok l'ho colpito E' morto Dimmelo Ma Si Un altro corno L'unicorno Yes Fatemi festeggiare Ragazzi Che bello Che bello Ce l'ho fatta alla prima Questi sono sempre Bei momenti Da Da ricordare Quando ce la fai alla prima E non muori come un pollo Va bene Allora Raccogliamo tutto quello che c'è Ovviamente nel circondario Ok Le corna degli unicorni Sono da mettere qua Ragazzi Qua c'è altro Sembrerebbe di sì Perfetto Munizioni carabina Ci piace Ci piace E mi sa Che non c'è altro Perlomeno così Sembrerebbe Quindi Ah 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 La prima cosa Che andremo a fare Ovviamente Inserire Questo affare qua Uno E due Tac e tac Yuhuu Yuppi Tra l'altro Siamo stati Nella sala da ballo E Luis ci ha dato buca Ragazzi Nonostante ci avesse promesso Un bel ballo Questo me lo ricorderò Luis Sappilo A lui non penso Fregherà un cazzo Però Sono altri dettagli Che non ci interessano Quindi E Ashley Le stanno per caso Torturando Non credo Che ci interessi Purtroppo Temo di semplice Eccola Oddio Che minchia L'avete fatto Perchè Perchè Oh Oddio Oddio Cos'è quella roba Cos'è quella roba Non credo Che sia saggio Che lo beva Cosa cazzarola è Che schifo È quella roba nera Che diceva quel tizio Oddio A chi nos despedimos Signor Kennedy Oddio Porca miseria Risalire ovviamente Non è Un'opzione Quindi Non ci resta Che fare di strada In questo posto Dimenticato Oddio Meno male Che c'è la catena Sto arrivando Poi dice Che non è un pro De cavaliere Quanto è cipi Torna in super faice Non vedo l'ora Perchè questo posto Mi sa che Non promette niente di buono Le profondità Ecco anche perchè Non ti vedo in forma Quanto sei spiritoso Leon Perchè L'avete arredato Direi davvero In maniera molto Grottesca Se possiamo usare Questo aggettivo Non so se è l'aggettivo giusto In maniera molto Raccapricciante Magari è meglio In maniera molto Macabra Sì forse è meglio E tu resta qui amico Non ti muovere Che non è caso Allora Allora vediamo un attimino Qua non c'è niente Andiamo avanti Spero non ci sia niente di Simpatico Ma cosa Lo stavo giusto per dire Spero non ci sia niente di simpatico In queste profondità Cristo santo Fatemene andare Vi prego Non voglio restare qua sotto Ci sono stato buttato Per sbaglio Fatemi andar via Tra l'altro Non c'è traccia di Eusti Qua nelle vicinanze Uh vedo la luce La luce del dio padre È lì E mi chiama Vedete Mi sta proprio illuminando Il giubbotto è messo male Eh cazzo Leon Ti preoccupi Nel giubbotto Non si sa che mostrici stanno Nel trastacqua E ti preoccupi Nel giubbotto Ok Non so se reggerò Ancora a lungo Mamma mia Che incubo Non vedo niente E adesso No No Io non ci scendo là No Regà Ma perché Vi dovete fare questo Perché Perché Corri Leon Non ti fermare Non ti fermare Ma sono insetti Ma che cazzo sono Tra l'altro Eh vaffanculo Allora ragazzi L'unica cosa L'unica cosa che possiamo fare adesso È creare questa piccola miscela di piante E di usarla in maniera E di usarla in maniera Tipo Super veloce Allora le scale Le scale Le scale Dobbiamo tipo uscire adesso È chiusa Porco Devo fare il giro Ma tu guarda un po' Non ti avvicinare Ah povero pesce Farai una brutta fine Caro Spero di averlo colpito Almeno Cristo Sono gli insetti di merda Sono gli insetti di merda Che sanno anche nuotare Regà Così morirò Morirò presto Il pesce Ah persico Fantastico Realmente fantastico Via Via dall'acqua Cristo Cioè così Di sto passo Morirò in 448 Un'altra persona è morta Da quanto tempo Sono richiuso qui dentro I miseriavanzi di cibo Che ci davano all'inizio Sono spariti Non ci arriva più rulla I dolori della fame E della sete Si sono fatti intollerabili Quasi tutti sono rassegnati A bere l'acqua nera Che schifo Il primo a trasformarsi È stato Erminio Era così debole Non riuscire più a camminare L'improvviso ha perso il sedo Quando la soffresa è placata Due di noi erano morti Credo che non dovremmo bere Quel liquido oscuro Troppo tardi caro Anche il caro Abelardo Ma che minchia Dei nomi c'avevano In sto posto Scusate Espirato Ma combattuto fino all'ultimo L'unica cosa che posso fare È onorare i corpi Dei repunti E pregare che le loro anime Trovino la pace Oh signore Perché ci metti così tanto Alla prova Oh signore Perché mi hai abbandonato Corona elegante Bella 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 È un combinabile Pure questa Si però Cioè Dov'è la strada Per andare a questo Minchia di posto Che non ho già abbastanza Se ritorno in quell'acqua Morirò Tipo Now Tipo subito Ok qua si può salire Solo che adesso La piantina gialla Chiaramente non posso combinarla Con una ceppa Quindi saliamo Leon Ti prego Non ne posso più Lo svomitazzo Anche dopo Grazie Allora Gilla a me Non ne posso più Dove minchia siamo Non so dove cazzo siamo Oddio Quanto tempo mancherà Al prossimo punto Di salvataggio Non lo so Non mi piace per niente Sto posto Ma tipo Proprio no Oddio Raga Allora Qua ci dovrebbe essere Un tesoro Ma dove Dov'è Ah eccolo qua Mamma mia Capace di mancarlo Pure a saldistanza Ragazzi Davvero meraviglioso Eeeh Vedo la luce viola Di Eusti Eh no I pistrelli no Pure i pistrelli Pistrelli anche no Grazie Io ho bisogno Di andare da Eustacchi Il prima possibile Eccolo Ah caro Eusti Non sai Che inferno Vissuto Non lo sai Allora Scarabeo ornamentale Può essere solo venuto Sta corona elegante Ragazzi Combinabile Con la bellezza Di cinque gemme E forse posso farlo Anche adesso Quindi intanto Vediamo questo E proviamo Ad incastonare le gemme Allora Una Due E poi ce ne servono Tre rettangolari Mannaggia Io ce ne ho solo due Peccato Vabbè Quando troverò la terza Cioè Venderlo comunque ragazzi Di sicuro Darà un bel po' Già così Sono 73 mila Caspiterina Allora Ripariamo assolutamente Ragazzi Il giubbotto E il coltello Perché sono fondamentali E non ho comunque Spazio per comprare Altre armi Per lo meno Per ora Direi di comprare Uno spray medico Visto che ci siamo Ragazzi Che ste risorse Cioè ste risorse L Scusate Ma che cazzo servono No Carabina E mitragliatrice Solo che io Sta cazzo di mitragliatrice Non ce l'ho Quindi quasi quasi Io ste munizioni Me le vendo ragazzi Che cazzo me le tengo a fa' Scusate Munizioni Magnum Per ora Regà Mi tocca venderle Perché tanto Mi occupano spazio Per niente Ok Il persico Può essere utilizzato Comunque per Recuperare salute E va bene così Dai Queste pure Ce le vendiamo Almeno ci ricreiamo Un paio di spazietti E quindi Signore Direi Che Salvo qui la partita Ovviamente Quindi riprenderemo da qui La prossima volta E la situazione È a quanto critica Perché Ashley Non sembra essere ragazzi Ormai in condizioni Di Di qualsiasi cosa Perché L'hanno catturata Gli hanno fatto bere Roba strana Che Cioè Io boh Non lo so Veramente E Leon Mi sembra più perso Che altro Comunque adesso Siamo nelle profondità Della terra Un incubo C'è il sereno Pure questo E come sempre ragazzi Se avete dei suggerimenti Li aspetto Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un video Ciao a tutti ragazzi La giocherina Ciao